Allora amici e amiche di Vivi Casagiove, qui dalla sede del Milan Club abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni il presidente Di Grazia, presidente provinciale dei Club Milan. Allora presidente, l'emozione che si prova a festeggiare il cinquantesimo anno del Milan Club di Casagiove? Guardi, per noi della MC è una grande emozione tenere nella provincia di Caserta un club di 50 anni che, visto il momento particolare, è veramente un grosso punto di orgoglio sia per la città di Casagiove, sia per la provincia di Caserta e sia per noi che rappresentiamo questa provincia e questi club nella MC Aversa, quindi MC di Milano. Quindi siamo molto onorati e siamo molto onorati al presidente del Milan Club di Casagiove di aver organizzato questa magnifica festa e di rappresentare anche a livello nazionale la MC e il Milan che abbiamo tutti nel cuore. Non ci sono più parole, va bene così. Allora un saluto finale, presidente. Allora auguro una splendida festa per questo giorno, auguro un ottimo campionato al Milan praticamente per quest'anno che ci possa dare tanta soddisfazione e tanto orgoglio di essere diffusi in questa zona particolare della Campania. e auguro a tutti quanti un buono spettacolo e un buon campionato a tutti. Ringraziamo il presidente provinciale dei Milan Club di Grazia. Dalla sede del Milan Club per Vivi Casagiove è tutto.